Esaminiamo ora l'indicativo presente attivo e passivo di un verbo della quarta coniugazione audio-audire. Il procedimento è analogo a quello illustrato per le coniugazioni dei verbi precedentemente esaminati. La prima operazione da compiere è ricavare il tema del presente. Il tema del presente si ricava staccando la desinenza re dall'infinito presente. Audire, audi. Al tema del presente aggiungiamo le desinenze, in questo caso attive. Audio, io ascolto. Audis, tu ascolti. Audit, egli ascolta. Audimus, noi ascoltiamo. Perché? Audimus e non audimus. È molto semplice. Quando la penultima sillaba è lunga, come in questo caso, l'accento cade sulla penultima sillaba. Ripeto, quando la vocale della penultima sillaba è lunga, l'accento cade sulla penultima sillaba, quindi audimus e non audimus. Auditis, per le stesse ragioni, voi ascoltate. Audiunt, essi ascoltano. Passiamo ora a esaminare l'indicativo presente passivo di audio, audire, quarta coniugazione. Come sempre, otteniamo il tema del presente staccando la desinenza re dall'infinito presente, audire. A questo aggiungiamo le desinenze passive. Audior, io sono ascoltato. Audiris, tu sei ascoltato. Auditur, egli ascoltato. Audimur, noi siamo ascoltati. Audimini, voi siete ascoltati. Audiuntur, essi sono ascoltati.